Mi chiamo Luca Nardi, sono di Vicenza, in provincia di Vicenza a Chiampo e faccio illustratore web graphic design. Mi è piaciuto partecipare a Sprint perché è stato un bel evento, una bella organizzazione e è stato molto interessante lavorare con altri artisti molto stimolante. Il mio rapporto con il cambiamento climatico è quello di cercare ogni giorno di rispettarlo, anche nel piccolo di fare qualcosa del mio. L'ambia opera rappresenta questa scena in particolare in cui c'è un rispetto reciproco tra la terra e la figura umana, in cui la figura umana cerca di rispettare la terra tenendola curata, invece la terra lo culla regalandovi le sue bellezze naturali. La mia parola per il futuro è rispetto, cercando di insegnarla anche ai più giovani e di rispettare la natura per avere un mondo sempre più pulito nel futuro. Grazie a tutti.